Altra eccellenza dell'anno, innovazione e leadership dei sistemi di sicurezza. La premiata è VerySure. La conosciamo tutti per essere leader in Europa e in Italia nel settore degli allarmi, monitorati per case e negozi, per l'eccellente assistenza al cliente, la completezza delle offerte, la tecnologia smart di ogni prodotto e la continua ricerca dell'innovazione. Restate qui con noi, perché c'è il premio MD dell'anno, innovazione e leadership sistemi di sicurezza. E a vincerlo, Manuela... Stefan Conrad Mendez, sempre naturalmente di VerySure. Eccolo! Per essere alla guida di una realtà che opera con il costante impegno e obiettivo di garantire la migliore protezione possibile alle persone, alle loro casi e attività commerciali, per favorire la crescita, per investire nelle persone attraverso la formazione e per fare la differenza attraverso una continua innovazione. Prima di tutto, ringrazio di cuore questi riconoscimenti alle fonti, ma soprattutto le persone VerySure che rendono possibile tutto questo. Questi premi vanno per loro. Essere riconosciuto come un'azienda di eccellenza nella sicurezza dimostra che siamo una grande squadra, che lavoriamo con passione, con impegno e continuamente innovando. Noi di VerySure offriamo un'allarme ad alta sicurezza, 360 gradi. La differenza la fa il fattore umano. I nostri clienti si fidano in noi perché hanno da frente a loro persone certificate che sono in grado di rispondere e intervenire in ogni situazione di pericolo e allarme. Attivare l'allarme sarà il futuro come accendere la luce di casa. Attivare l'allarme sarà il futuro come un'azienda di pericolo e allarme.